Come giudica la sentenza della consulta che ieri ha dichiarato incostituzionale il divieto alla fecondazione terologa? Importante, significativa e di rispetto a tante persone che in Italia hanno dovuto rinunciare ad avere un bambino o hanno dovuto recarsi all'estero per accedere a queste tecniche. Si chiude una pagina nera della storia italiana che in dieci anni ha visto la violazione di tutti i diritti fondamentali di persone che desideravano solo avere un bambino. Tra circa un mese e mezzo i centri italiani dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale della sentenza potranno riprendere ad applicare tecniche terologhe. I centri italiani hanno un'elevatissima qualità tecnologica, gli embriologi sono preparati, possiamo veramente cominciare l'applicazione dell'eterologa immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza sulla gazzetta ufficiale. L'apprezzamento per la sentenza dovrebbe essere seguita da fatti politici coerenti. Questo è un momento in cui non è stata fatta nessuna forzatura, semplicemente è stato richiamato il valore della Costituzione in questa materia. E allora non si può sottoporre rispetto della Costituzione alle negoziazioni legate alla sopravvivenza di una maggioranza politica. Lo metto in questi termini garbati, ma questo è un problema che abbiamo di fronte. Il ministro Lorenzini ha parlato di situazione complessa. Certo che è una situazione complessa, ma è stata complicata proprio da chi ha introdotto questa legge. Man mano che ne cadono i pezzi più aggressivi, ideologici, fondamentalisti, la situazione si chiarisce. Professore, ma è stato merito anche di Papa Bergoglio se la Chiesa, come l'ha detto, è stata abbastanza neutrale in questo periodo in merito a questo argomento? Vorrei dire di sì per la rivoluzione di questo Papa, perché ha aperto al dialogo, alla discussione. Penso che anche in questa materia il dire chi sono io per giudicare valga moltissimo e deve valere anche dalla parte dei laci chi sono io per giudicare. C'è chi dice che adesso si apre il mercato di ovuli e gameti. Adesso noi dobbiamo invece, così come è avvenuto per le donazioni di sangue, renderci conto che la donazione è un fatto fondamentale di solidarietà tra le persone.